Questo è un po' il quadro per questo anno che giustamente il Sagittario Generale della Sittà ha definito come un anno di semina, intendendo con questo rafforzare la visione, la speranza che appunto in questo anno si chiudano degli accordi intercolettativi che veramente siamo in grado di aprire una riflessione di un modello di sviluppo differente.